Benvenuti in questa nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro atlantisti. Notizia d'apertura, una base dell'aviazione utilizzata dall'aviazione russa in Siria è stata colpita da diversi attacchi missilistici nelle ultime ore, sempre nel paese medio orientale e sulle sponde del Mediterraneo orientale. Mercoledì di notte, nella base che si chiama Khme-i-Mim, una città di mare quindi nella parte occidentale del paese guidato per gran parte da Assad alleato del Cremlino di oggi, diversi missili hanno colpito, come si vede benissimo da diversi video, grandi esplosioni proprio intorno alle strutture, sulle strutture di questa base utilizzata dall'aviazione, anche dall'aviazione russa oltre che da Hezbollah. E quindi le fonti israeliane come il Times of Israel, questa è una notizia del 25 settembre, quindi di qualche settimana fa, ci sarebbero diverse fonti. L'Iran starebbe trattando quindi nell'area sciita, mezzaluna sciita, tra Russia e UTI per fornire missili contro le navi, i missili per colpire Israele, addirittura forse, come dice il Times of Israel, quindi fonte di parte, missili di produzione russa aiuti proprio in funzione anche anti-occidentale, non solo anti-israeliana, quindi l'occidente a guida americana. Mosca, a proposito, nelle ultime ore ha anche esortato i suoi propri cittadini a lasciare immediatamente non solo il Libano, quindi sono iniziate le evacuazioni via aereo da Beirut e dintorni, ma anche da Israele, e questa è una novità. L'ambasciatore Anatoly Viktorov, ambasciatore russo presso Tel Aviv, ha detto ai propri cittadini connazionali di lasciare lo stato ebraico proprio per le crescenti, preoccupanti frizioni, guerre, se volete, con Hezbollah, con Hamas, eccetera. E con l'Iran, addirittura forse anche direttamente pian pianino. Lo ha detto l'ambasciatore giovedì scorso alla tassa agenzia stampa di Mosca. Ringrazio Isabella per l'abbonamento e Claudio per il contributo singolo a questa informazione che si preoccupa di tradurre da siti ungheresi, 99% delle volte, all'italiano, le prospettive più demonizzate dai principali media italiani, come quella iraniana, russa, del governo ungherese Orban, eccetera, eccetera. I russi avrebbero anche abbattuto un drone ucraino nei pressi della centrale atomica nucleare civile, nell'oblast di Kursk, nella città che si chiama Kurchatov, nelle ultime ore sempre. Questa è una notizia del 3 ottobre, letteralmente di ieri. La centrale non ha subito danni né interruzioni della corrente dell'alimentazione, a riferirlo a Alexei Smirnov, che è il governatore della stessa regione della Russia del 1991. Dei frammenti di drone avrebbero poi creato, causato delle esplosioni proprio nei palazzi, nelle strutture circostanti. Tutto questo è stato negato, smentito dalla prospettiva ucraina, ovviamente dal Ministero degli Esteri, oggi comandato da Sibiga. L'Iran ha cominciato ad evacuare, secondo fonti occidentali satellitari, Warzone in questo caso, i suoi supertanker, cioè le grandi navi petroliere, dal porto, dal terminale dell'isola, proprio che è una bocca del Golfo Persico, da dove passa circa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Ricordiamo che l'Iran è il principale produttore e esportatore di greggio al mondo. Lo stesso Iran, il regime degli Ayatollah, che ha minacciato poi tutte quelle nazioni che appoggiano militarmente Israele nel conflitto contro Hezbollah, in Libano ad esempio, di essere nel futuro considerati sempre a Teheran degli obiettivi legittimi da colpire in guerra. Quindi soprattutto si guarda dagli Stati Uniti d'America dell'amministrazione Biden. Nexta, che è un'agenzia stampa filo occidentale ultraatlantista europeista bielorussa all'estero. Nexta, cosa dice? Che il 12 ottobre prossimo, per bocca, quindi riporta le dichiarazioni del nuovo segretario generale politico della Nato, Mark Rutte, l'olandese che vedete a sinistra, con Zelensky, è stato a Kiev qualche giorno fa. Il prossimo quindi incontro del gruppo Ramstein, a livello di presidenti, capi di governo, avrà tra i temi principali il permesso all'Ucraina, alle AFU di Sirsky, di colpire con missili a lungo raggio occidentale il territorio della federazione russa, internazionalmente riconosciuto. Lo stesso Mark Rutte, che è stato apostrofato, descritto come nuovo segretario della Nato, dalla Russia, da qualche politico russo, come uno che prosegue nella politica estera russofuba dalla parte occidentale. A dirlo più in particolare Mikhailo Sheremet, che è parlamentare della Duma di Stato dalla Crimea e membro del Consiglio di Sicurezza russo, quello di Medvedev e di Shoigu, per capirci. Il segretario Nato, dice ancora il parlamentare, è un malato cronico di russofobia che cerca di distruggere, che porta il mondo alla distruzione totale attraverso l'aizzamento alle guerre, ai conflitti, nuovi conflitti nel mondo. Ha detto lo stesso Sheremet Arria Novosti, che ha concluso così Rutte non è altro che un commissario degli Stati Uniti d'America e spesso ai danni degli altri membri dell'alleanza nordatlantica. Si Arto, ministro degli esteri ungherese, ha richiamato presso il ministero degli esteri di Budapest l'ambasciatrice tedesca in Ungheria, per le sue parole completamente inaccettabili, secondo il capo del digastero di Budapest. Durante il giorno la festa e la riunificazione della Germania, l'ambasciatrice si è scagliata contro il governo Fidesz-Orban. Grande preoccupazione, ha detto, per il governo ungherese, la politica estera, un rischio per tutta la Nato, l'Occidente e la democrazia e la libertà. La nostra fiducia nel governo ungherese e nell'Ungheria sta scemando di giorno in giorno, ha detto Julia Gross, che ha anche attaccato il governo di Si Arto, Fidesz-Cadempe, per la presidenza di turno del semestre europeo-ungherese, con la sua, quella di Orban, Beka e Missio, Missione di Pace, il viaggio anche non solo in Cina e in Russia, e poi per il tira e molla nell'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia mesi fa. Risposta su Facebook del ministro ungherese Si Arto Peter che vedete, ci aspettiamo sempre rispetto dagli ambasciatori stranieri che sono ospiti qui in Ungheria, sono dei capi diplomatici e non degli attivisti politici dell'opposizione. E per questo motivo, per queste parole inaccettabili, abbiamo richiamato al Ministero degli Esteri la stessa Gross. Per chiudere, Alternativa per la Germania, AFT come partito nel Parlamento della Sassonia, ex DDR, ha mantenuto le promesse, dicono i politici capi della stessa AFT nel Parlamento del Land, perché verrà aperta una commissione di inchiesta per riesaminare delle eventuali violazioni di diritti umani durante la gestione del Covid negli anni passati dalla parte della CDU. Qui si attacca soprattutto la CDU. Dice il capo della AFT nel Land, un certo Jörg Urban, andremo a riesaminare le gravi violazioni dei diritti umani proprio per combattere ufficialmente la pandemia. Per esempio il limite a 10 persone all'aperto per la riunione, a libertà di riunione in pubblico. Ringrazio voi per aver visto questo video al prossimo Tra Italia e Modio Arorzaga.